con Paganin palla che resta in campo Sosa in mezzo Bergkamp poi altissima la conclusione molto buona la percussione sulla destra in campo vedete Sosa che la mette in mezzo Bergkamp che non trova il pallone anche perché era stato sfiorato da Evani e poi il tiro altissimo di Fontolani Fontolani Jugovic su di loro vediamo vedete con il gomito Jugovic insiste comunque l'Inter ecco il cross di Paganin l'arresto di Fontolani Katanez vedete la difficoltà del giocallone in agilità Paganin parte il cross la deviazione di Orlando ancora e poi parte di Jugovic ora ci sono proteste esulta Fontolani ma mi pare che il pallone sia terminato ecco che rivediamo Paganin parte il suo traversone di Ginocchio Orlando respinge Pagliuca ancora Orlando e alla fine no e Pagliuca mette dentro ecco che rivediamo Orlando Pagliuca ancora Orlando e poi stanno recriminando anche sulla posizione di Fontolani le immagini non sono chiarissime e ora dopo il gol di Fontolani alla